Ritorna il polifonico senza concorso ma con una rassegna di cori ad ospitare tre concerti la chiesa di San Michele. Sono tre cori molto ben piazzati diciamo così a livello di competizioni già fatte insomma sono super premiati e blasonati e abbiamo sentito appunto il coro Calicantus di Parabiago diretto da Ferrario, Pietro Ferrario che è anche compositore, apro una parentesi, compositore che è appena stato premiato anche al nostro concorso internazionale di composizione, Sibi Consoni di Genova diretti da Roberta Paraninfo e il gruppo femminile della sezione femminile del gruppo 900 diretto da Maurizio Sacquegna. Il coro è nato vent'anni fa esattamente e nel 2018 abbiamo vinto con la sezione femminile il terzo premio qui al Polifonico Nazionale. Il coro si articola in due sezioni maschile e femminile ed oggi siamo stati ben lieti di partecipare a questa importante rassegna al posto del Polifonico Nazionale. Un onore grandissimo riuscire ad essere nelle prime posizioni di un concorso di rilevanza internazionale per cui sono felicissimo di questo risultato. Nasce come coro di voci bianca all'interno della struttura dell'Accademia Vocale di Genova appunto che è un percorso formativo attraverso la musica corale e parte appunto con i bambini per cui molti dei ragazzi che oggi hanno cantato hanno iniziato come bambini quando avevano 4-5 anni insomma quindi è già una buona fetta della loro vita che fanno coro ecco e adesso sono diventati coro misto, giovanile, adulto insomma l'età sta tra i 20 e i 30 anni. Grazie a tutti. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie.